buongiorno a tutti oggi presentiamo il piatto di questa carta una vellutata di patate alla menta con un carciofo cotto a bassa temperatura e sottovuoto questo è un piatto fedelissimo alla stagione troviamo una leggerissima crema di patate patata naturale bollita e poi frullata a caldo con tanta menta da dare quello spunto un po' aromatica alla crema di patate il carciofo invece viene semplicemente pulito svuotato come d'abitudine come ogni bollettore nelle sue capacità va cotto a bassa temperatura, va cotto in sottovuoto con del condimento olio, aglio, vino bianco, sale e pepe e per 60 minuti a 56 gradi e alla fine questo è il risultato che troviamo, un carciofo morbidissimo che viene appoggiato su questa crema delicata ciao ciao cos'è questo? come mai siamo? siamo coriziosi, un saluto a tutti e vi aspettiamo per San Valentino San Valentino che faremo una serata stupenda per gli innamorati ciao 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 ciao